il doppiaggio è una cosa seria non si può inventare il doppiatore deve avere studiato recitazione non avere inflessioni dialettali avere una bella voce ma soprattutto non deve avere la zeppola che cos'è la zeppola è una cosa terribile che si ha ma non si sa di avere la zeppola finoffi fintaffi sesso altro difetto che non è il caso di avere è la r o la r ramarro rutilante ragazzo o ramarro rutilante e ragazzo questo non vi permette di fare del doppiaggio se poi si hanno tutte e due allora è meglio spararsi rarissimo rarissimo unico esempio di doppiatore con la r e fabrizio mazzotta ma dovete chiedere a lui come ha fatto velocissimo esempio di dizione la e può essere aperta o chiusa la e aperta si trova generalmente davanti alla m e la n silenzio merenda la e chiusa si trova generalmente davanti alle doppie casetta bicicletta anche la o può essere aperta o chiusa giorgio olio ma siccome le eccezioni sono molte vi rimando alla prossima lezione la pronuncia nello specifico regole della pronuncia italiana ciao doppiatori ciao doppiatori